Di lancio, Selva è rimasta lontanissima Lo stacco Rimasto lontano anche SGSAS Davanti va Sorens Petit Dietro al quale ripiega Shining Wise Terza posizione Shantosa Poi Sansone Laserallari Numero 2, Savo Arfonte Scolta Santiago De Leon 13,5 il lancio Sorens Petit è partito Molto veloce Quarto iniziale in 29 Scarzo Sempre veloce ma comunque Rispetto al lancio c'è stato già un bel rallentamento Abbiamo ora il passaggio A 600 Probabilmente in ulteriore Rallentamento 600 in 45 E mezzo 16,4 Numero 10 SGSAS Squalificato Sorens in vantaggio Vantaggio davanti a Shining Wise Poi Shantosa con a largo Di Santiago Mentre Sansone si avvicina minaccioso Quindi San Nicola Salca E poi anche Sentido La retta di arrivo Con Sorens al comando Attaccato da Sansone Interviene San Nicola E poi anche Sentido E poi anche Sentido E poi Sentido Sansone che passa C'è l'affondo di San Nicola E soprattutto di Sentido Che sembra il più efficace Sentido che guadagna Guadagna ancora Sentido Le battute conclusive sul palo Sentido Sansone San Nicola Sorens La spunta Sentido Con Massimo Barbini Il training di Jerry Jordan Nicolori della scuderia Virginia Trotto Grazie a tutti